politica di gestione dei rifiuti in sicilia ricostruzione di calat impianti tra certezze più volte annunciate ma anche incertezze legate a un imminente abbia dei lavori subentra inesorabilmente il fattore tempo e non solo nel corso degli ultimi cinque sei anni macchiati da tre incendi di probabile natura dolosa si sono susseguite lotte intestine in politica con rimbalzi di responsabilità da una parte all'altra e perfino tra le stesse sigle sindacali il tutto solo per meri protagonismi adesso che sia un passo dalla ricostruzione scende in campo la segreteria regionale della cgl che promuove una singolare iniziativa direttamente sul posto con gazebo assemblee all'aperto e interventi da parte di esponenti politici e sindacali la manifestazione avuto inizio una visita agli impianti danneggiati dagli incendi la cgl punta l'indice contro la politica così come affermato da gaetano agliozzo segretario regionale della fp cgl le responsabilità stanno a monte stanno a monte della politica e siamo qua oggi proprio per sollecitare l'avvio dei lavori e sollecitare anche una garanzia per questi lavoratori il 31 scadrà dicembre scadrà la cassa integrazione speciale per questi lavoratori vogliamo che la regione la politica mandi un segnale per capire un po come ci attrezziamo quindi noi ci aspettiamo oggi da parte della politica un impegno importante affinché già da domani partano i lavori per la ricostruzione l'iniziativa organizzata dalla segreteria regionale della cgl sicilia in sinergia con la segreteria comprensoriale del calatino che con i suoi segretari nuncio drago enzo maggiore eccettina cibona hanno curato dettagli e parti logistiche mirava sui temi delle politiche di gestione dei rifiuti in sicilia ragione per la quale è stato appositamente scelto l'impianto di trattamento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata di calati impianti sia perché distrutto da tre roghi di probabile natura dolosa sia perché 36 lavoratori non potranno più godere dei benefici della cassa integrazione a partire dal prossimo mese di dicembre noi abbiamo voluto accendere riflettori sul complesso del sistema dei rifiuti in questa nostra regione che dimostra tutte le sue inadeguatezze e le sue fragilità che si scarica sui lavoratori sui cittadini con costi enormi e con il fatto che spesso i lavoratori non sembrano le dovute garanzie dentro questo scenario la vicenda di calat è l'epifenomeno di una questione più generale purtroppo al seguito di alcuni atti vandalici se non addirittura di atti criminali questo impianto è stato messo in discussione purtroppo nonostante siano passati già oltre tre anni ad oggi non ci sono ancora non sono stati avviati i lavori per rifar partire il complesso degli impianti questo frutto naturalmente dell'ingaggine burocratica dal lato ma se mi permettete mi permettete anche di inefficienza della regione siciliana io voglio ricordare che erano state individuate già le risorse nel 2022 e per una stranezza diciamo dal processo amministrativo a dicembre del 2023 queste somme sono state di nuovo ritirate perché nel frattempo bisognava riprogrammare le somme del FERS solo in questi giorni sono state individuate le risorse attraverso il POC il nostro auspicio e che anche grazie a un'iniziativa come quella di oggi si accendono il riflettore si diano davvero abbi ai lavori che sin qui invece non sono stati fatti le conclusioni la fidiamo a Vincenzo Cifo amministratore unico di Galatti Impianti il cui massimo esponente dello stabilimento industriale si è espresso sui tempi della ricostruzione peraltro ormai imminenti e sulle ricadute positive che determinerà a beneficio dei 15 comuni a ricostruzione avvenuta. Stiamo finalmente procedendo con l'avvio della fase della ricostruzione nei prossimi giorni contiamo di firmare il contratto con la ditta appaltatrice che si è giudicata l'appalto per la ricostruzione e speriamo che nei tempi brevi possano essere completati tutti gli ultimi passaggi burocratici cosicché entro dicembre 2026 tutto sia concluso e l'impianto possa finalmente tornare a lavorare con il suo capitale umano le sue persone tutto il suo personale pienamente efficiente permettendo anche ai cittadini di questo territorio e dei territori limitrofi di risparmiare importanti rispetto alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti.